Sì, l'elettorato italiano sia realmente spaccato tra Partito Democratico e PDL o sia solamente una rappresentazione creata ad arte dai mezzi di comunicazione? Ma io credo che l'elettorato italiano, se guardiamo anche le ultime cose, non è spaccato in due, c'è un'area di indecisi che ogni volta sceglie se stare da una parte o dall'altra, io credo che se dovessimo guardare com'è l'articolazione culturale, le culture politiche che stanno dentro l'elettorato non sono bipolari, sono molto più articolati, certo c'è una propensione sostenuta non solo dai due partiti maggiori, ma anche da una campagna di stampa che tende a rappresentare la politica solo su due schieramenti, ma così non è bene, non è bene perché come dicevo, come bisogna dire con chiarezza, se è giusto ridurre la frammentazione è sbagliato comprimere il pluralismo, in Italia certo anch'io sono contro i partiti personali, il vero dramma è che con questo bipolarismo abbiamo visto il crescere di partiti personali, basta vedere i nomi, i cognomi e la cosa è quella, io credo che bisogna tornare a dei partiti progetto, a dei partiti programma e questi non potranno che essere tre o quattro, non si può pensare di ridurli solo a due con due marginalità sulla sinistra o sulla destra, c'è un'area di riformismo centrista che ha la necessità di essere rappresentata e noi tentiamo di rappresentare quest'area che è un'area di riformismo centrista, cioè temperato che ha una visione mitica della politica, che si rifà soprattutto più che è il leader alla dimensione parlamentare come luogo della decisione, delle lavorazioni, del confronto e del dialogo. Io vorrei sapere appunto le proposte sul miglioramento della sanità soprattutto al sud. In materia di sanità, io credo che la sanità è un problema che non è solo un problema del mezzogiorno, è un problema nazionale, io credo che la prima cosa che bisogna fare è togliere la politica della sanità, se noi riuscissimo, soprattutto per quanto riguarda i dirigenti delle ASL, a fare un album nazionale attraverso un concorso nazionale e sceglierli proprio sulla base delle loro competenze, togliendole dalla politica, noi avremmo già fatto un passo in avanti rispetto alla riforma sanitaria. Questo vale nel mezzogiorno, dove la nomina dei presidenti o dei direttori delle ASL è una questione ormai diventata di potere politico, vale anche per quanto riguarda le altre aree del Paese, perché in modo più o meno accentuato c'è questa dimensione. Io credo che la prima cosa da fare sarebbe questa, togliere le mani della politica della sanità, non dal punto di vista dell'orientamento, ma dal punto di vista dell'amministrare, del governare, del gestire. Laureati nei call center, laureati allo sportello delle banche, laureati nell'ufficio di segreteria, stiamo valorizzando il nostro capitale umano? No, la vera questione del lavoro in Italia non è solo quella della precarietà, che è un problema grosso del lavoro nero che dimostra la debolezza della nostra struttura industriale e la difficoltà che ha il nostro Paese a competere sui mercati internazionali, è che noi abbiamo svalorizzato il lavoro, abbiamo fatto diventare il lavoro quasi e solo esclusivamente un fattore economico, il lavoro è un fattore umano, è un fattore in cui la persona esprime le sue capacità, le sue potenzialità, se noi non recuperiamo la dimensione antropologica del lavoro non riusciremo a valorizzarlo compiutamente e pertanto lo mercificheremo, quello che sta avvenendo, io credo che bisognerebbe tornare almeno dal punto di vista della tutela, della garanzia, soprattutto di questi lavori un po' atipici, frammentati, dispersi, a quella che era la proposta di Marco Biaggi di uno statuto dei lavori, cioè come tutelare la persona, dargli dei diritti individuali rispetto al suo lavoro vista la frammentazione, questo vale per tutti coloro che non sono tutelati oggi dallo statuto dei lavoratori, cioè uno statuto dei lavori che definisca dei diritti individuali per chi lavora, proprio perché siamo al call center, alla frammentazione, alle cose di questo genere, quello che un tempo è stata la creazione di un diritto collettivo, lo statuto dei lavoratori, oggi bisogna creare un diritto individuale anche per il lavoro.